Ti piacerebbe fare il fotografo di professione? Tutti i fotoamatori che siano avanzati o principianti hanno avuto questo pensiero almeno una volta nella loro vita. Chissà come sarebbe trasformare la mia passione in un lavoro retribuito. Oggi vado a parlarvi di quelli che secondo me sono degli ostacoli che ci troviamo a dover scansare nel momento in cui stiamo cercando di approcciare il mondo fotografico in maniera professionale. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, sono un fotografo professionista per cui qualcosina nella vita avrò anche capito di come si svolge questa professione e oggi voglio raccontarvi quali sono state alcune cose che mi hanno in qualche maniera ostacolato nel mio viaggio per diventare un fotografo professionista. Alcuni di questi errori li ho fatti, altri no. Andremo a vederli uno per uno e andrò a darvi ovviamente la mia opinione. Non è che se una cosa per me è un errore allora non la dovete fare, punto e basta. ognuno farà quello che crede, io vi segnalo dove ci sono delle criticità. Vi ricordo prima di cominciare di andare a iscrivervi al mio canale con il bottone qui sotto perché comunque se state cercando di approcciare la professione vi fa comodo avere sotto mano i miei contenuti con tutti gli aggiornamenti. Inoltre se mi lasciate dei commenti spesso e volentieri rispondo con degli shorts verticali quindi se andate a iscrivervi non rischiate di perdervi questi contenuti. Benissimo andiamo a incominciare secondo me la prima cosa che ci allontana in qualche modo dal risultato è focalizzarci solo sulla strumentazione. Lo so l'avete già sentito in 100 milioni di video perché tutti i fotografi bene o male affermati dicono la stessa cosa ma perché dicono questa cosa? Voglio spiegarvi il mio punto di vista. Andare ad acquistare strumentazione è vero che in qualche maniera ci avvicina al risultato. Perché? Perché nel momento in cui io voglio sfocare lo sfondo per esempio ho bisogno di un'ottica di un certo tipo. Io ho preso un 35 millimetri per avere lo sfondo sfocato. Con la lente di prima non riuscivo a farlo. Quindi è vero che la strumentazione è indispensabile per ottenere il risultato che abbiamo in testa. Senza la strumentazione non riusciamo a ottenerlo quel risultato quindi delle cose ci servono. Però che cosa succede? Spessissimo io mi trovo a rispondere alle vostre domande motivo per cui vi invitavo a iscrivervi prima perché comunque poi vi arrivano le risposte anche se magari in ritardo cosa di cui mi scuso ma siete tanti. Io rispondo alle vostre domande e tantissimi di voi mi chiedono che lente devo comprare. Ecco come che lente devi comprare? Devi domandarti che cosa vuoi ottenere. Io non compro un 35 millimetri perché era in sconto, non compro un 35 millimetri perché mi piace il colore, non compro un 35 millimetri perché ho compiuto 35 anni e allora 35-35. No, bisogna avere un motivo, è un motivo serio per comprare le cose perché sennò stiamo buttando soldi e in ottica professionale se io butto i soldi per comprare cose che poi non mi servono sono in fallimento. A livello professionale io sono in fallimento se spendo tutto in attrezzatura che poi non uso. Io devo pensarci e comprare delle cose che mi servono sul lungo periodo e che mi permettono di guadagnare. Per cui è giusto domandarsi che lente devo prendere però la risposta non posso darvela io e non può nemmeno darvela il venditore del negozio di fiducia dove andate perché nel momento in cui comprate una cosa dovete comprarla in base a un bisogno reale. Quindi la prima cosa che io riscontro è che gli amatori alle prime armi e comunque anche i professionisti alle prime armi che vogliono entrare a lavorare in questo mondo, la cosa che fanno è che dicono mi serve roba, devo prendere roba perché se non prendo roba non mi sento a posto, se non prendo roba sento di non essere in grado di lavorare. Allora ragazzi se volete entrare nel mondo professionale della fotografia vi comprate un 24-105 o anche l'STM o equivalente e con quello fate praticamente tutto. Magari non benissimo, magari in certi contesti sarebbe meglio se aveste qualcos'altro, però col 24-105 intanto lavorate, nel senso che siete in grado di portare a termine il lavoro. Poi lo portate a termine male perché c'è poca luce, allora sapete che vi serve un'ottica più luminosa, lo portate a termine male perché vi serve più teleobiettivo, allora sapete che cosa dovete prendere dopo, sapete che cosa vi è mancato, però dovete fare delle scelte oculate. Quindi accumulare roba tanto per è il modo migliore per dilapidare le vostre risorse e mancare quelli che sono i vostri obiettivi, perché in fin dei conti per fare il fotografo non serve avere l'astronave. Io conosco bravissimi fotografi che usano delle macchinette che io stesso considero del cavolo e gli dico sempre ma come fai a lavorare con quella roba lì? Ah che te ne frega te, io ottengo il mio risultato, il mio cliente mi paga, vabbè hai ragione tu allora. E quindi questa è la prima cosa, non comprate roba tanto per, comprate roba che vi serve e pensate a che cosa vi serve prima di comprare roba. Pensateci molto bene perché sono i vostri soldi, magari avete i soldi per fare un solo acquisto e quindi ve lo dovete giocare bene. Un'altra cosa che sicuramente ci allontana dal nostro obiettivo è cercare i lavori sbagliati. Mi spiego meglio, esistono delle tipologie di impieghi fotografici che per quanto mi riguarda sono assolutamente da evitare come la peste. Ve ne dico giusto un paio, fotografie in discoteca e fotografia nei villaggi turistici, questi secondo me sono impieghi fotografici da scansare, proprio da non prendere neanche minimamente in considerazione. Voglio spiegarvi perché però, perché questo è il mio punto di vista, magari alcuni di voi non hanno altra possibilità e quindi devono per forza prendere quei lavori, in questo caso non vi biasimo, magari in qualche altro caso a qualcuno di voi piacciono quei lavori e di nuovo non vi biasimo. Però voglio evidenziare qual è secondo me l'ostacolo. Nel momento in cui prendete un lavoro fotografico come fotografo in discoteca o come fotografo per villaggi turistici, mettete in conto almeno queste due cose. La prima, state facendo un'esperienza molto limitata, nel senso che non è che dopo che avete lavorato in discoteca come fotografo siete dei fotografi affermati, assolutamente no, siete dei ragazzi che hanno lavorato in una discoteca. Quindi ovunque andrete a proporvi e direte guarda io sono un fotografo, lavoro per la discoteca, faranno la stessa faccia che sto facendo io adesso. Diranno ah hai lavorato in discoteca. Forse non basta perché la fotografia è un universo e aver fatto le foto a dei ragazzi in discoteca che si divertono col cuba libre in mano non è minimamente sufficiente per poter dire sono un fotografo che sa lavorare. Hai fatto una cosina, hai fatto forse la cosa più facile. Cioè in discoteca non bisogna posizionare le luci, non c'è niente di, non c'è set design, non c'è illuminotecnica, cioè non c'è niente del lavoro fotografico. È una cosa che viene, che poi non è semplicissima, però viene considerata molto semplice e molto banale per cui ovunque andrete a proporvi dicendo ho fatto il fotografo in discoteca o in villaggi turistici difficilmente vi prenderanno in considerazione perché avranno l'opinione che siete dei ragazzi che hanno fatto la stagione in riviera e si sono divertiti e nel frattempo hanno fatto due foto. Quindi questi sono lavori che non vi professionalizzano, che non vi formano. Sì, danno un minimo di formazione perché dovete essere rapidi a scattare, rapidi a inquadrare, avere la macchina sempre pronta, però è tutto lì. Quindi è una cosa che difficilmente vi porta a uno sviluppo professionale serio. Oltretutto di solito vi pagano molto poco, cioè vi pagano con un Cuba Libre e 20 euro per fare quei lavori lì. Pagano veramente così poco che a me è capitato un paio di volte di rispondere ad annunci anni e anni fa, adesso non faccio nemmeno più. Mi hanno sempre risposto che il pagamento era così ridicolo che francamente ho sempre declinato se sono stato bravo con cortesia, ma magari alle volte neanche quella perché veramente. Ce n'è stato uno che mi ricordo mi aveva proposto guarda discoteca a Monza, ti diamo 50 euro. Quindi io dico quindi io mi devo fare due ore di macchina, cioè tra benzina e caselli per farmi questa roba probabilmente mi rimanevano 30 euro a cui avrei anche dovuto togliere le tasse. Quindi io sto in ballo magari sei ore dalle, cosa ne so, dalle otto di sera fino a dopo mezzanotte, cioè un lavoro comunque di ore per tornarmi a casa con 30 euro. Ecco allora dipende perché se avete 14 anni e lo fate così tanto per e la discoteca è sotto casa vostra ci può anche stare. Se state cercando di approcciare questo mondo a livello professionale e volete farne il vostro mestiere lo capite da soli che non potete stare fuori sei ore e tornare con 30 euro. Cioè è la paghetta che vi danno i genitori 30 euro. Senza contare che comunque la discoteca e i villaggi turistici sono ambienti dove la vostra strumentazione è a rischio. Sono ambienti dove mentre state fotografando si gira un ubriaco, vi dà un colpo, vi fa cadere le cose, vi rompe il flash, vi rompe un obiettivo. In riviera magari stiamo facendo le foto per la stagione turistica, ci entra la sabbia dentro nell'obiettivo, la sabbia dentro nella macchina fotografica, il sale, le incrostazioni. Quindi stiamo mettendo a rischio la nostra strumentazione per 10 euro al giorno, 20 euro al giorno, 30 euro al giorno. Torniamo dalla stagione turistica che abbiamo fatto con la nostra strumentazione da buttare via e non abbiamo guadagnato nemmeno quanto basta per ricomprarcela. Quindi per quanto mi riguarda assolutamente da evitare questi contesti. Altre cose da evitare come la peste sono gli entusiasti, gli amiconi, perché capita ogni tanto che quando si è alle prime armi ci si imbatta in persone che sono entusiaste del nostro lavoro, che dicono ah ma che bravo, che bello, ti faccio lavorare io, vieni da me, adesso pian piano, cioè tu mi fai le foto gratis e nel frattempo impari e poi un giorno, ecco, quello un giorno non arriverà mai. Perché ve lo posso garantire, l'amicone, l'entusiasta, quello che scrive sempre grazie per le bellissime foto in tutti i post dove ti tagga perché non ti ha pagato, quello non ti pagherà mai. Ed è anche difficile che da lì si sviluppi qualcosa di più perché uno che non ti ha pagato all'inizio probabilmente i fondi per pagare un fotografo non ce li ha, non vuole averceli perché li sta dedicando ad altro, li sta spendendo in altre cose e difficilmente un bel momento comincerà a pagare per un servizio che ha sempre avuto gratis. Il momento anche che noi diciamo guarda gratis non te lo posso più fare o vi propone uno scambio merci, quindi vi dice guarda io ho un negozio di cravate, ti do una cravatta, tu mi fai le foto per il mese e ci può anche stare, non dico che sia sbagliato, però difficilmente vi metterà in mano dei soldi. Io ve lo dico, guardate, statisticamente tutti i clienti che ho avuto in passato che non mi pagavano non hanno mai cominciato a pagarmi, tutti i clienti che ho preso dopo che mi hanno sempre pagato hanno sempre continuato a pagarmi, quindi sono proprio due categorie diverse e purtroppo quando cominciamo ci sta a cominciare a lavorare gratis perché ci sta. Trovate un amico, un conoscente, qualcuno con un'attività, qualcuno che abbia bisogno delle foto, vi proponete a titolo gratuito per fargliele, ci sta assolutamente, però non fatevi ingabbiare dall'entusiasmo di questi figuri perché loro vi continueranno a blandire, a fare complimenti, a dirvi che belle, che bravo, che sei, ah tu sì che le sai fare e con questa cosa voi rimanete lì e continuate a fargliele perché vi sta pagando in complimenti. Il problema qual è? La prima volta che gliele fate avete più bisogno voi di lui di fargliele perché siete a zero, non avete portfolio, non avete mai fatto una foto in vita vostra, quindi avete bisogno di quelle immagini e quindi ci sta che gliele fate gratis, anche perché la prima volta che gliele fate faranno schifo, perché non siete capaci, quindi la prima volta lui vi farà i complimenti lo stesso, anche perché sono le prime che gli fanno e quindi magari a lui piacciono pure. La seconda, terza, quarta e quinta volta voi gliele farete meglio perché avete visto quelle che facevano schifo a casa e non le fate più, avete visto quelle che erano bomba a casa e continuate a fare quelle che sono venute bene, quindi voi siete migliorati ma lui continua a non pagarvi e continua a farvi un sacco di complimenti e fin qui ci sta. Il punto è nel momento in cui avete padroneggiato quell'ambito che quale che fosse, magari era un cliente che aveva un bar e quindi gli avete fatto le foto dei clienti che prendono la brioche o gli avete fatto la foto still life del caffè o gli avete fatto le foto degli interni, di qualsiasi cosa si sia trattato nel momento in cui avete padroneggiato quel particolare ambito io non vi dico di mandare a quel paese il vostro amico conoscente che vi ha fatto iniziare però attenzione a non farvi ingabbiare perché quello continuerà a chiedervi cose non pagate e quindi voi continuerete a destinare delle risorse, tempo prima di tutto e poi strumentazione per fare un lavoro che non viene retribuito. Quindi il mio consiglio è va bene cominciamo a fare le cose gratis per qualcuno però poi troviamocene degli altri perché quel qualcuno che vi ha fatto cominciare non vi darà mai una lira. Quindi cercatene degli altri, usate il lavoro che avete fatto per questa persona o per queste persone che vi hanno fatto cominciare per trovarvi degli altri clienti e un bel momento direte a queste persone guarda io adesso mi sto facendo pagare quindi non posso più venire da te gratis. A questo punto queste persone decideranno se vogliono rinunciare ai vostri servigi e chiedere a un altro pischello che sta iniziando e di solito succede così ne trovano un altro che sta iniziando e continuano a farsene fare gratis oppure se vogliono cominciare a retribuirvi per il vostro impegno non succederà praticamente mai anzi fatemi sapere se a qualcuno di voi è successo è molto raro però non escludo che possa succedere. Un'altra cosa che secondo me può rallentare molto durante il processo di avviamento di una carriera fotografica è il perdere tempo con cose che non portano a niente e vi voglio fare un esempio specifico perdere tempo studiando troppo perché è una cosa che è successa anche a me a tanti ragazzi che ho conosciuto ci sta ovviamente studiare approfondire e assolutamente io vi invito a continuare a guardare contenuti come i miei anzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e siete arrivati fin qui ci sono tante cose che possiamo fare per migliorare noi stessi dal punto di vista della conoscenza fotografica che poi si si sviluppa sul campo e ci porta ad ottenere dei risultati migliori quello certamente però quello che vi voglio dire è nel momento in cui fotografate per piacere potete studiare tutta la vita che tanto non vi corre dietro nessuno nel momento in cui volete farlo di professione secondo me studiare troppo vi sta ammazzando perché nel momento in cui continuate a e badate bene l'ho fatto anch'io eh continuate a studiare 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 ah non so abbastanza devo prendere un altro libro fotografico 50 euro un altro corso fotografico 500 euro un altro workshop 260 euro state spendendo un sacco di risorse per prendere dei piccoli step che per carità a livello culturale sono impagabili sono bellissimi eccetera eccetera ma a livello professionale vi stanno dando poco perché una volta che sapete fare quelle cose che servono al vostro ambito professionale faccio un esempio abbiamo imparato a fare le fotografie still life per zalando quindi sfondo bianco con le due lucette molto semplice a quel punto se il nostro obiettivo è lavorare nello still life e fare quel tipo di foto andare a studiarci l'effetto orner piuttosto che l'iperfocale è una cosa che non ci sta dando niente in più per sviluppare quell'ambito fotografico dove vogliamo progredire e portare avanti la nostra professionalità e quindi a quel punto io dico se vogliamo essere professionisti dobbiamo ragionare anche in ottica di costi e benefici quindi io sto spendendo dei soldi per imparare delle cose sì ma che benefici ne sto traendo per il mio ambito per la mia nicchia professionale zero sto traendo pressoché zero benefici io in quel momento dovrei spendere quelle risorse in pubblicità per trovarmi clienti per fare network per conoscere gente e soprattutto nel momento in cui continuo a studiare studiare non sto facendo altro perché magari sto studiando e basta sto solo studiando e quindi non sto facendo dei lavori non sto portando avanti la mia professione perché io se continuo a studiare divento un esperto non divento un professionista questa è la differenza capito nel momento in cui noi vogliamo lavorare bisogna cominciare a farlo e se noi continuiamo a studiare per carità studiare ripeto va benissimo è essenziale bisogna farlo ed è bello farlo però nel momento in cui vogliamo fare i fotografi di professione continuare a sottrarre tempo alla professione per studiare può essere una cosa che ci rallenta a quel punto io direi comincia a lavorare nel momento in cui sei a regime che hai i tuoi clienti stai facendo le tot cose allora sviluppi un altro ambito e poi magari lo inglobi e fai crescere il tuo business però continuare a studiare basta tenendo il business fermo secondo me è una cosa assolutamente da evitare molto bene amici io direi che a questo punto ci fermiamo qui perché voglio tenere i contenuti un pochettino snelli in maniera tale che siano più fruibili per tutti vi ricordo per l'ennesima volta di lasciare un like a questo video se avete imparato qualcosa il bottone iscriviti è subito qui sotto fatemi sapere nei commenti se argomenti di questo tipo vi interessano in maniera tale che io possa capire come veicolare più efficacemente la mia offerta e io vi ringrazio come sempre di aver passato un po del vostro tempo con me vi do appuntamento al prossimo video